Tu aspetta il carico con Tony e non far cazzate. Volante Dolci, un uomo di ravvicinamento. Sono una decina, ci stanno cercando. Ma andiamo in forza. Scusate, dovete farlo tutte le volte che c'è una nuova. Avete veramente acceso la sirena durante un appostamento notturno? Ho visto dei gabbiani sospetti. Deve alternare Galer e la Titania. Quante volte? Questo Palmira Cara è il cuore dell'azione. A casa, a casa, era punto. Ho capito che tu alla fine dovrai uccidermi. Non ti preoccupare Tony, veramente. Cioè, tu fai come ti senti. Marcella Bella. Marcella Bella. Questo è un appostamento, i poliziotti siamo noi. Qui sei in un posto di lavoro serio. Sono criminali esperti. Vai, cane! Devo ammazzare due persone. Il mio ex marito. Cioè, ma è sicura una? Questa è uguale a me. Mazza, uguale. A me no, grazie. Sei intollerante. Durante 12, qualcosa da segnalare? good time. Ative a te, per Bunny. Grazie a tutti. Grazie.